La primavera di Sibari, così è stata definita dal sindaco di Cassanoionio Gianni Papasso, l'inaugurazione del Parco archeologico di Sibari, che riapre al pubblico dopo una terribile stagione di fango e distruzione, a seguito dell'esondazione del Crati, avvenute il 18 gennaio del 2013. Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato, oltre a tanti sindaci, numerose autorità religiose, civili e militari, tra cui il sottosegretario Dorina Bianchi, l'onorevole Enza Bruno Bossio, il presidente della regione Calabria, onorevole Mario Liverio. È una bella giornata per Sibari, per la Calabria, qui c'è un patrimonio culturale, un sito archeologico eccellente, che merita di essere valorizzato perché la nostra terra, attraverso la valorizzazione di realtà, che possono avere una proiezione internazionale come il sito archeologico di Sibari, può diventare più attrattiva e sicuramente la valorizzazione di questo patrimonio è un atto di grandissima civiltà. Io ricordo le giornate buie, le giornate nere in occasione dell'alluvione, il fango che aveva coperto gli scavi di Sibari, lo ricordo benissimo, ricordo quelle ore di sofferenza, da lì è ripartito un cammino che oggi ci porta a questa bellissima giornata. Noi vogliamo e dobbiamo fare molto per valorizzare il nostro patrimonio culturale, io credo che il percorso della Magna Grecia, partendo da Sibari, passando per Crotone per arrivare a Locri, a Reggio Calabria è un percorso che deve diventare un grande attrattore per la nostra regione, ma soprattutto deve essere valorizzato perché in modo particolare i nostri giovani, le nostre ragazze possano riconquistare l'orgoglio di appartenere ad una terra che è la terra della Magna Grecia, che è la terra che ha un patrimonio culturale inestimabile, perché questo patrimonio non è delocalizzabile, è un patrimonio che solo in Calabria può essere vissuto e incontrato. Ecco perché è importante la giornata di oggi e credo che Sibari potrà e dovrà diventare il punto di riferimento di un percorso importante che dovrà aiutare la Calabria ad uscire dalle difficoltà, a recuperare i ritardi, a costruire una condizione di crescita e di sviluppo sostenibile. Con l'inaugurazione del Parco archeologico di Sibari si apre una nuova stagione per tutta la Calabria ed un percorso entusiasmante per il territorio della Sibaritide. Questo per me è l'inizio, non è certamente alla fine un percorso, perché proprio per questo straordinario successo, tanta gente, dobbiamo chiedere con forza una nuova campagna di scavo, dobbiamo chiedere con forza una nuova attenzione per Sibari, la regione ha tanti programmi per Sibari, la Sibaritide, e io inseguo l'obiettivo di costruire la grande città di Sibari in virtù della storia maestosa che abbiamo, in virtù delle potenzialità che questo territorio esprime. Se ci mettiamo insieme, unite, facciamo una grande cosa, facciamo un grande servizio alle nostre popolazioni, rispettiamo quelle che sono le indicazioni anche legislative, creeremo senza dubbio una prospettiva per i giovani della Piana, della provincia e della regione, la grande mitica città di Sibari.